Trasferta ostica per la squadra stabiese che sabato 7 marzo 2015 sarà impegnata sul campo della Tasterca Rugate. Al momento la squadra lombarda domina il girone del pool salvezza con otto punti, conquistati in cinque incontri. L'unica sconfitta è arrivata sul campo sardo di Sedargius. Il coach Cesare può contare su un roster di tutto rispetto. Stabile e Frantini sono gli elementi di spicco che vantano numerose presenze nella massima serie. Completano lo starting five Patrizia De Gianni, pivò ex battipaglia, Claudia Guinzoni e Mara Casartelli. Sicuramente la salvezza della TRG Stabbia deve essere costruita su un parquet amico, ma il quintetto stabiese vuole allungare la striscia di vittorie. La gara di sabato può essere l'occasione giusta per mandare un segnale forte alle concorrenti per la salvezza. Per gli aggiornamenti live dell'incontro vi ricordiamo www.sabbiabasket.it a partire dalle ore 16.